Il Sacro Cuore è il titolare di questa nostra opera apostolica della campagna, quindi del Benevento in modo particolare. Ci ispira, come ho detto, nel ringraziamento all'Arcivescovo, alle autorità civile e politiche ad agire nell'amore. La nostra missione ospedaliera nasce dall'incontro con Gesù compassionevole, Gesù che si è fatto uomo per noi, per condividere la nostra sofferenza e il nostro dolore e questo ci spinge oggi a prenderci ancora una volta cura di quando soffre nel corpo e nello spirito con la grande medicina che è l'amore che nasce dal cuore di Gesù. Sono tutte missioni importantissime come sempre, ma in questo periodo sono ancora maggiormente sentite per quello che sta accadendo. Prima il Covid, l'aumento della povertà, la guerra che è alle porte anche dell'Italia, insomma, a diversi chilometri, ma la sentiamo inevitabilmente. Sì, appunto, in questo momento storico che stiamo vivendo purtroppo sia con la pandemia, la guerra, adesso è anche la seccità che si sta mettendo, ci interroga sempre di più qual è il nostro ruolo in tutto ciò e il nostro ruolo è appunto quello di impegnarci nel rispettare sempre di più le leggi della natura, ma soprattutto di rispettare la dignità di ogni persona umana. Ognuno di noi ha una propria dignità, ha una propria vocazione, ognuno di noi, per noi, ecco, cattolci, è immagine e somiglianze di Dio, quindi ci porta a servirci gli uni con gli altri, non a distruggerci, non a distruggere il creato che Dio ci ha donato, ma a saperlo utilizzare al fin di bene.